Salve ragazzi, bentornati su One Piece.it, io sono Toschi ed oggi parliamo male di Echiroda. Quel grandissimo, grandissimo, fenomenale mangaka che apprezziamo tanto è un po' uno stronzetto e ci prende un po' per il culo. Secondo me quest'autore, quest'uomo ama tanto la sua opera ma ama ancora di più leggere e osservare le reazioni delle persone a quel che dice, a quel che fa. Ha dichiarato comunque di visitare i fan site, i siti, forum dei fan e di leggere le varie teorie. Quindi secondo me lui lo fa molto spesso e si diverte e sa che ogni sua parola, ogni sua frase detta all'interno del manga o al di fuori del manga può condizionare il pensiero di tante persone e può far nascere tantissime riflessioni. Cosa ha fatto in questo caso? Il 24 ottobre prenderà il via sul sito ufficiale di One Piece un quiz in cui ognuno, ogni persona, però è in giapponese quindi è un po' difficile per noi, ogni persona può mettere alla prova le proprie conoscenze di One Piece. È un quiz che già c'è stato in passato e che ti valuta come fan di One Piece, come conoscitore di One Piece. Cosa ha fatto Oda? Come ogni, possiamo dire, progetto legato a One Piece, Oda l'ha presentato con un messaggio, no? E il messaggio è davvero stronzone da uno che vuole provocare. Perché ha detto, che cos'è il One Piece? Punto di domanda, ovviamente. Qualcuno, o meglio, un fan molto accanito dell'opera, che conosce bene l'opera, ad oggi potrebbe anche saper rispondere a questa domanda. Quindi, che cosa ha voluto dire? Semplicemente, che probabilmente all'interno dell'opera ci sono già tutti gli indizi necessari per comprendere che cos'è il One Piece, che cos'è il tesoro lasciato da Goldie Roger. E questa è, perché è una presa per il culo? Perché lui sa che, dicendo, parlando di quello che è il mistero principale, sa che le sue parole faranno il giro del mondo, sa che molti ne parleranno, molti ci scriveranno su, e quindi pubblicizza al meglio il nuovo quiz, che inizierà il 24 ottobre. E in più fa nascere tantissime teorie, o tantissime persone sicuramente proveranno adesso ad unire i puntini per dimostrarsi i fan accaniti e per dare una risposta a quella domanda, che cos'è il One Piece? Perché ad oggi qualcuno potrebbe saper rispondere. No? Quindi, un vero cattivello, se vuoi dire così, Oda, che si diverte a lanciarci le noccioline e a vederci ballare, a vederci chiedercene altre. Perché vuole che noi parliamo, che le community siano attive, perché è anche la sua fortuna, alla fine, no? La fortuna, una delle fortune di One Piece, uno dei motivi per cui One Piece vende tanto, per cui One Piece è molto famoso, è che ha delle community attivissime, che continuano a pubblicizzarlo, no? E continuano a parlarne. Quindi noi non possiamo fare altro che dire, mio caro Echilo Sensei, anche se ci provochi, anche se sei uno stronzone perché lo sei, ammettiamolo, ammettiamolo, ci prendi per il culo, ti diverti, noi ti vogliamo bene e non facciamo altro che aspettare le noccioline. Perché poi, soprattutto per chi ha canali e parla di One Piece in generale, sui vari social, le noccioline ci danno elementi, materiale su cui discutere. Quindi la prego, Sensei, ci dia altre noccioline, ci dia noccioline, abbiamo bisogno delle sue noccioline.